benvenuti sui miei canali allora oggi nuovo video video di nell'arte su tip ed è già qui preparato l'unghia ho utilizzato il pure white di passioni unghie due passate e infine sono andato a utilizzare questo qui della andata per fare l'effetto opaco e niente prima di realizzare un cagnolino con un fiocchetto e niente queste qui sono le sailor moon che ho fatto scusa le sailor moon le sailor che ho fatto niente l'altra volta però non ho fatto il video alcune di voi l'hanno viste su instagram e facebook adesso vi faccio vedere un attimino se sono soddisfatta da diciamo come sono venute anche se non proprio tanto bene mi sono venute però dai meglio di niente è molto carina mi piacciono tante le mie seri e niente adesso cominciamo qua a fare questo anche perché comunque non ho fatto neanche nessun corso di di dell'arte niente tutto da sola quindi mi devo ritenere fortunata insomma proprio come sono venute ok comunque camion discorso ritorniamo alla nell'arte che andremo a fare oggi e niente vi faccio ripeto questo cagnolino con questo fiocco e niente io vi lascio al tutorial ci vediamo dopo ciao 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 Autore dei sovrapposti